Il Presidente Fabio Natta è stata rinviata alla pratica dell'Assemblea dei Sindaci su Riviera Acqua, come mai? Non sono mancate le polemiche soprattutto dai sindaci del Dianese? I sindaci del Dianese hanno evidenziato una problematica che gli sta particolarmente a cuore, cioè quella di non correre rischi durante l'estate, la conosciamo bene, abbiamo fatto dei tavoli, uno di recente, abbiamo chiesto anche un tavolo regionale su questa tematica. Rinvio è stato richiesto e approvato dai sindaci per una questione tecnica, perché occorre individuato il percorso da seguire per la gestione pubblica dell'acqua, a divenire a delle interpretazioni o correzioni delle convenzioni in essere con tutte le criticità giuridiche che ci sono, quindi hanno chiesto praticamente un maggior approfondimento della tematica giuridica per risolvere, per trovare una soluzione che stia in piedi, ma stia in piedi bene e che sia condivisa tra tutti e quindi ci sarà una nuova assemblea, un nuovo consiglio su questo punto a brevissimo termine, 7 massimo 10 giorni, perché ovviamente non possiamo più aspettare su questa cosa. Ovviamente oggi non abbiamo parlato solo di questo, ma anche di altre cose, tra cui vorrei evidenziare l'approvazione del reddiconto consuntivo del 2017 che chiude e chiude bene perché non abbiamo debiti e perché comunque certifichiamo che nel 2017 abbiamo speso più di 3 milioni sulle strade e sulle scuole, che in un momento così difficile per la vita dell'ente che è senza risorse, credo siano una cifra, seppur non sufficiente, diciamo di un certo impatto. Questa cifra ci ha consentito di fare numerosi interventi, oggi abbiamo anche provato in consiglio provinciale ulteriori interventi per quasi 700 mila Euro che verranno effettuati nei prossimi mesi su varie arterie provinciali. Le polemiche soprattutto da parte sua? Non sono polemiche, sono constatazioni di fatto, continuano a passare i mesi, la situazione rimane invariata, Riviera Acqua è un soggetto che ci dovrebbe rappresentare, di fatto non accade. Posso far solo pensare ai cittadini tutti, agli ascoltatori che mi ritrovo ad avere delle rotture sistematiche che riguarderebbero il comparto delle manutenzioni straordinarie e purtroppo non ricevo risposta, non ricevo azioni da parte della società che ci dovrebbe gestire queste cose nella riparazione del caso. Continuo a dire che sbagliano chi ci accusa, soprattutto il Golfo Dianese, a essere coloro che non vogliono il bene di questa società, al contrario noi siamo coloro che per primi e ancora oggi hanno veramente sostenuto in tutto e per tutta questa società, rivendichiamo un rispetto, un rispetto che va fatto di azioni, va fatto di un bilancio serio che ci deve essere sottoposto per poter liquidare quanto di nostra competenza nei confronti di questa società. Lo chiediamo fortemente al Dottor Mangiante che è il nuovo Presidente di Riviera Acqua, aspettiamo questi conti, quando arriveranno questi conti probabilmente riusciremo a far chiarezza. Non ultimo e non banale, sicuramente non secondario è l'obbligatorietà ad entrare in questo soggetto che peraltro è un obbligo di legge da parte dei comuni più importanti che sicuramente sono la polpa di questo grande progetto e quindi Sanremo, Ventimiglia, Imperia, Bordighera e le società partecipate a Messi.